Al mio fianco l'euro parlamentare Brando Benifei in visita al Salone. Onorevole, lei si occupa di infrastrutture, un'esposizione come questa ha bisogno di strutture all'avanguardia, vero? Certamente, bisogna sostenere il rilancio della Nautica che è finalmente ripartita con azioni efficaci. Sul fronte delle infrastrutture abbiamo sicuramente delle buone notizie e alcuni problemi ancora aperti. Buone notizie, sicuramente il sostegno per il terzo valico che è ripartito e che richiede però ancora un impegno rispetto a nuovi fondi attraverso il cosiddetto Fondo Europa Connessa. Su questo dovremo continuare a lavorare per ottenere qualcosa in più e ovviamente abbiamo ancora aperta la questione del raddoppio della ferrovia a Ponente. Su questo, così come sulla Pontremolese, altro grande tema, credo dovremmo sforzarci di utilizzare al meglio il nuovo piano di investimenti europei. Il cosiddetto piano Juncker che finalmente mette dei fondi pubblici come garanzia di investimenti privati nuovi che vogliano rischiare e vogliano investire. Lo possiamo fare e dobbiamo fare sistema ovviamente. Grazie onorevole.